benvenuti a questo incontro sono molto contenta di presentarvi questa programmazione questa nuova programmazione che è frutto della collaborazione di più di 23 docenti abbiamo pensato a un nuovo master universitario di primo livello in comunicazione aumentativa alternativa e ampliato alle tecnologie per la comunicazione nei vari contesti di vita è stato fino adesso un viaggio lungo sei anni e sta continuando è importante sapere come è nato questo master che cosa lo ha preceduto sei anni fa è stata una grande innovazione in collaborazione con il consorzio humanitas perché c'era un grande bisogno di master di un riconoscimento e di un percorso universitario post laurea i docenti che incontrerete in questo nuovo percorso hanno già svolto sei edizioni del master universitario in collaborazione con l'università l'unsa e quest'anno collaborano tutti anche alla costruzione della scuola di cia e tecnologie assistive quindi insieme abbiamo immaginato nuovi percorsi formativi e nuovi programmi di formazione il master è patrocinato da dalla società internazionale di comunicazione aumentata di alternativa e che in italia rappresentata da isaac italy avremo finalmente la certificazione internazionale blis symbolics perché è un modulo del master è dedicato espressamente al corso blis al termine del quale chi è iscritto al master potrà sostenere l'esame di certificazione riconosciuto a livello internazionale e dico questo perché tra noi è presente oggi anche il dottor francesco canzaroli che è il nostro punto di riferimento un grande esperto italiano di blis simbolics e ci rappresenta anche a livello internazionale abbiamo definito i nostri partner tecnologici come vedete è un arda usili e il piker tobi daino fox essere labs i nostri partner tecnologici e sono importanti perché mettono a disposizione tutte le necessarie tecnologie per i laboratori pratici collaborano all'aggiornamento e alla formazione laboratoriale dei professionisti e dei partecipanti al master questo naturalmente è molto importante perché vuol dire che i docenti della scuola e del master sono supportati da un da una varietà da una particolare possibilità di approfondimento eh delle delle tecnologie soprattutto quelle più attuali eh abbiamo moltissimi insegnamenti interdisciplinari eh sono sviluppati praticamente da trenta docenti tra i migliori tra i migliori esperti italiani in comunicazione aumentativa alternativa e tecnologie assistive le lezioni sono teorico pratiche io vi definisco le aree eh interdisciplinari in cui eh tutti i docenti sono impegnati l'area linguistica pragmatica linguistica e fondamenti della comunicazione umana l'area medica che riguarda l'inquadramento delle patologie e il confronto tra metodi e approcci di CA soprattutto riguardo all'autismo l'area riabilitativa ehm che riguarda soprattutto assessment e modelli di riferimento l'area pedagogica cioè l'approccio di CA e l'istruzione l'area della ricerca perché abbiamo anche docenti ricercatori universitari area sociosanitaria applica cioè all'applicazione dei modelli di riferimento nei servizi alla persona l'area tecnologica sono ovviamente le tecnologie assistive in particolare le tecnologie per la comunicazione l'area giuridica dei diritti della persona con disabilità e ehm uno tra gli argomenti a cui teniamo maggiormente è proprio eh l'insegnamento su CA e cooperazione internazionale i laboratori obbligatori in presenza sono due weekend luglio ottobre del ventitré ci saranno laboratori online e studio individuale centocinquanta ore di tirocinio e titolo eh acquisito vediamo un po' laboratori per l'uso dei software di comunicazione e altre applicazioni e consigliamo come sistema operativo Windows dieci undici lo studio verrà articolato sia come studio individuale che come studio in gruppi coordinati dai docenti per monitorare lo sviluppo longitudinale di progetti di cia i cosiddetti casi clinici diciamo eh quindi verranno formati fin dall'inizio dei gruppi ehm in cui eh che potranno incontrarsi periodicamente durante tutto il corso per monitorare l'andamento dei casi clinici che sceglieranno eh c'è poi la tesi individuale finale e tutto questo viene supervisionato dai docenti e questo è il titolo che eh rilascia il nostro master specialista in comunicazione aumentativa alternativa e tecnologie per la comunicazione sono duecentosessanta ore complessive distribuite in undici moduli mensili dal venerdì alla domenica due weekend dal venerdì alla domenica in presenza a Roma verifiche e tesi online gruppi di studio e supervisione online che cos'è e cosa fa lo specialista di cia vediamo è il professionista che coordina il progetto di valutazione e presa in carico degli utenti di cia è il punto di riferimento dell'equip progetto multiprofessionale del progetto riabilitativo individuale per quanto riguarda la parte il progetto di comunicazione aumentativa è in grado di formare in comunicazione aumentativa e tecnologia assistente per la comunicazione i facilitatori cioè tutti coloro che assistono la persona con disabilità famiglia scuola altre istituzioni operatori è in grado di progettare un servizio di comunicazione aumentativa e tecnologie per la comunicazione e collabora a progetti di ricerca ecco questa è un po in sintesi è la rappresentazione del ruolo che un professionista formato in cia e tecnologie per la comunicazione può effettivamente svolgere alla fine di questo percorso che proponiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti